salve brava gente eccoci qua ancora ritrovati su destro l'empaio e oggi non parliamo di nessun toys ma parliamo in realtà di un evento che hanno fatto qua a osaka cioè la mostra di animage e dello studio gibri o studio gibli come non so perché in italia con l'h magari viene pronunciato oggi gibli ma si pronuncia stagio gibri perché lo pronuncia la giapponese e è stata una mostra che io più di tanto non gli davo in realtà andare a vederla c'era una marea di materiale eccetera è stato molto molto interessante ed è più che altro incentrata su animage animage è la rivista di animazione più prestigiosa e più vecchia che c'è qua in giappone uscita verso la fine degli anni 70 sull'onda del successo del versione cinematografica della yamato il primo numero di anime se non sbaglio è nell'estate del 78 poi ovviamente le persone che guardano questo video che sono molto più a conoscenza di me delle cose poi mi correggeranno fate pure non me la prendo anzi mi fa solamente piacere dell'estate del 78 dovrebbe essere con una copertina molto shock che mi prende molto con tutta nera con la corazziata spaziale yamato e come si chiama disegnata tipo in bianco che risulta su questo nero della copertina e questo deve se non sbaglio il numero uno di animage e poi questo animage che è cresciuto e durante la crescita è veramente conosciuto da tutti gli appassionati ha formato un tag molto forte con miyazaki ed è stato animage che ha sponsorizzato molto anche il castello di cagliostro che qua ecco ragazzi io lo dico subito scusatemi sono sincero a me piace essere sincero io non sono un grandissimo fan di miyazaki lo dico non è che non mi piaccia ma non sono un grandissimo fan preferisco certamente mazumoto reiji naga i go eccetera preferisco molto altra gente a miyazaki sono sincero sono sincero però devo dire che i suoi cartone animati effettivamente i suoi film a cartone animati sono molto belli e il castello di cagliostro ne ho pieni ne ho pieni veramente gli attributi perché quando fanno le trasmissioni sui gli anime più amati le scene più amati ti sbattono sempre il castello di cagliostro non so come si chiamava in italia in giappone flanders sono vino il cane delle fiandre lì però in italia non so come proprio l'hanno tradotto perché non so neanche dirlo ma uno delle due con il flanders sono vino che alla fine il protagonista povero muore in chiesa col suo cane eccetera di una tristezza infinita ti fanno vedere sempre come come scena che tocca di più o quella del castello di cagliostro con l'upen della principessa o quella del del cane delle fiandre adesso scusatemi veramente l'improvvisata non so come si dice in italiano e io non ho veramente piene le palle per quella a me veramente il castello di cagliostro che è anche un film simpatico però voglio dire poco poco da lupen da lupen terzo lupen terzo adesso stanno facendo una nuovissima serie in giappone che a me piace perché è proprio più come la serie proprio quella iniziale di lupen che deve essere piuttosto lupen è anche un po' una canaglia nel film di miyazaki era troppo una brava persona ma comunque se lasciamo perdere questa parentesi lupen lupen sansei come detto qua in giapponese in italia la lupen si veramente guarda ogni tanto questi flash che non mi ricordo mai come si devono pronunciare le cose ok tornando a bomba che il castello di cagliostro in giappone non ha avuto grosso successo all'inizio il successo è venuto più avanti e poi animage ha spinto molto sponsorizzato molto miyazaki anche nel creare lo stadio ghibli poi alla fine e anche nausicaa della valle del vento che forse anzi direi sicuramente il cartone animato più rappresentativo di miyazaki uno dei più belli sicuramente da vedere è apparso come fumetto prima su animage e poi ne hanno fatto il film per cui animage ha un rapporto molto molto forte con miyazaki per quello hanno fatto questa mostra la storia di animage e dello stadio ghibli assieme e ovviamente nelle mostre che fanno tu non puoi filmare tutto perché hai lo minimo di solito l'80-70% che sono che non è permesso di filmare per farti comprare poi il catalogo alla fine dell'ufficiale della mostra che tra l'altro questa volta non ho trovato io ho cercato ma forse poi alla fine era anche stanco perché quando fai anche una barcata di film ti spianchi anche era anche stanco non ho guardato se c'era o non c'era però l'80% così ma un buon 20% anzi facciamo anche 25% dentro era filmabile e io ho fatto 3 video su questo per cui adesso ci terrei a spiegarvi che video ho fatto dentro era diviso se vogliamo la zona filmabile questa era la parte che entrava con questa colonna con tutte le copertine degli animage stampati che era molto bella ma anche molto piena di gente e se non sbaglio non era neanche possibile filmare comunque questa non sono riuscito a prendere poi una delle zone forse quella più bella in assoluto era il mondo di Nausicaa e di La Piuta per cui avevamo addirittura proprio il vestito la corazzata che usava Nausicaa quando volava con anche tutti i suoi il pugnale gli accessori che si vedono nel cartone animato rifatti in scala reale perché questo era veramente molto molto bello ci ho fatto un video anche abbastanza lungo e poi qua dietro abbiamo il castello di La Piuta poi abbiamo qua non si vede le corazzate volanti di Miyazaki quelle piene di eliche abbiamo questo modello veramente bello grosso proprio mozzafiato e anche lì ho fatto un bel video li ho filmati tutti e poi abbiamo alla fine nell'exit zone però ancora dentro la mostra un mega mostro tarro rifatto in cartone con le scatole di cartone ed è fatto veramente detto così sembra una schifezza invece è fatto veramente bene e poi abbiamo all'inizio della mostra perché non è solamente Miyazaki ovviamente è un dei bei diorama di Gundam della battaglia di Jaburo a quella di Aba Anku quella finale eccetera e molto molto anche quelli erano carini ho visto dei diorama fatti meglio ma erano carini nel video il primo video che butterò fuori metterò lo farò specialmente cioè butterò fuori il primo video questo qua con i diorama eccetera le cose più carine visualmente da filmare le cose più carine il secondo video sarà sul museum shop perché di solito quando vai in tutte queste mostre per raffazzonare i soldi dalla gente ovviamente ci hanno alla fine ti trovi il negozietto del museo che il cosiddetto museum shop che ti spara dei prezzi allucinanti ma la cosa curiosa è che in questa mostra ce n'era uno dentro la mostra cioè tu devi avere i soldi per poter accedere a questo museum shop devi pagare le 1500 yen della mostra per poterci accedere di solito i museum shop sono divisi perché anche se tu per prendere soldi anche se tu non paghi il biglietto della mostra poi puoi comprarti solamente qualche ninnoro lì che ha a che fare con la mostra tu puoi comprarlo anche se non entri nella mostra direttamente invece qua no erano divisi c'era uno dentro la mostra e uno fuori uscito dalla mostra per cui le ho filmate le tue e due niente di particolare però vabbè abbastanza significativo e poi e questo qua con le museum shop ovviamente è il video più corto e poi c'è il video finale questo qua è parecchio lungo parecchio lungo ma si parla nella ventina di minuti che è su tutta quella zona dove potevi filmare vedete c'è del materiale qua in fondo no tutti i pannelli qua che potevano essere filmati che sono in gran parte i poster dei vari film di Miyazaki ma poi altri sono dei pannelli che sono le foto proprio dello stadio Ghibli quando era appena stato fatto eccetera c'è i pannelli che spiegano un po' di qua di là e ovviamente molti sono in giapponese scusatemi ma questo farà un video con un titolo comune per i giapponesi e per gli italiani eccetera perché se no non si finisce più e e poi la seconda parte di questo video quest'ultimo video il terzo video quello sul materiale che c'era qua dentro è dedicata proprio ad Animage sono tutte la gran parte delle copertine dei vari numeri di Animage poi vedremo delle illustrazioni sulla serie di Goshogun perché la serie di Goshogun era stata non so se è arrivato prima il romanzo su Animage poi hanno fatto la serie robotica o se ne hanno fatto una cosa a parte eccetera ma per un po' andata avanti anche se non so no le five star stories erano su Newtype scusatemi sulla rivista di Newtype su Animage hanno per molto tempo hanno pubblicato anche la saga di Goshogun e poi andando avanti qua nella sezione materiali scusatemi vediamo che tutti questi poster simpatici con i 150 personaggi dai qua di Gundam eccetera molti specialmente i soldati di Zion ovviamente col casco eccetera andare a beccare a riconoscere tutti perché sono uno zionista sfegatato però non è facile e poi tutti i vari poster i giochi dell'Oca tutte le varie come si chiama le varie merchandising dei tempi che è una cosa molto simpatica cosa filmata nell'ultimo video ma l'ultimo video ripeto è un po' proprio per appassionati anzi devo dire che sono cose che magari messi come fotografie sarebbero meglio che magari con un video però vabbè io ho un canale di twitter che praticamente dove non scrivo mai praticamente non ce l'ho solamente di per bellezza e faccio tutto comunque con il video del mio canale basta non mi allargo più di tanto e ripeto ho fatto anche quest'altro video con tutto il materiale se qualcuno è interessato però è veramente per appassionati io vi dico che guardare i primi specialmente il primo video è già tanto ok e così finisce qua la mia spiegazione scusatemi è più stata lunga la spiegazione del video stesso ma così per farvi per darvi un'idea di quello che metterò in onda fra un po' di tempo sul mio canale grazie di tutto e ci vediamo nei prossimi video grazie da Destron Empire ciao ciao brava gente